E' il mezzo che tira indietro l'aereo E' il mezzo che c'è Stampe a cut out? Monterello Forciato E' il Postato Unberto C'è un bel postato E' un bel posto C'è un bel posto C'è un bel posto Il Preciaro C'è un posto C'è un posto Ah si Non si può fare male non c'è bene non parlo come si si parla sta a te capito un'altra 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 La Futa Un'altra Un'altra Sparge I ok, pushback complete, e-step, anti-brakes ok, pushback on the right side is clear ok, we have also taxi clearance I'll give a good call the car is in here the car is in here ok, it is there, it is there, it is it can be No, bene, 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 bene E' stabilizzato, sta a livello La mia informe, taxi check is complete, via to go Quindi per una left, facciamo la pista La take care please Ma vedete come se fossero due Si, si, si Ok MCB Corresponde Landing and stop lights And we are clear for people With lights Light is clear Leggermente da destra Si 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 Ok Zero Zero Stabilized I 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